E a Milano una retrospettiva su Romano Scarpa, prestigiosa firma di Topolino. Paperino e i gamberi in Salmi, creata nel 1953 e pubblicata nel 1956 su Topolino, è la prima storia a fumetti interamente creata da Romano Scarpa, dove dimostrò il suo duplice talento di illustratore e sceneggiatore. A questo eclettico veneziano scomparsa nel 2005 a 78 anni, considerato il più grande artista Disney italiano, il museo milanese Wow Spazio Fumetto dedica la mostra dall'unghia di Calì all'ultimo Balabù fino al 13 marzo. L'unghia di Calì è un giallo classico di Topolino, molto d'azione, molto intrigante e con una risoluzione per nulla scontata. Mentre l'ultimo Balabù è una storia molto divertente, che è tra l'altro la prima che ci presenta il personaggio di Brigitte. Per la prima volta il pubblico potrà vedere oltre i 150 tavoli originali, schizzi, bozzetti e sceneggiature con Topolino, Paperino e tutti gli altri amatissimi personaggi realizzati da Scarpa. Un'altra dei suoi punti di forza è proprio il fatto di essere stato un autore completo, che nel caso del mondo Disney è una cosa abbastanza rara. Sue anche le creazioni di Paperetta Yeye, Trudi, la fidanzata di Gamba di Legno e del cugino scienziato Plottigat. Grande appassionato di cinema, si ispirò per le sue strisce spesso anche a celebri pellicole. Fra queste il racconto scritto nel 59 con Topolino protagonista, che si rifà alla donna che visse due volte di Hitchcock.